Ciao ragazzi, benvenuti su Gastube Drums. Oggi voglio andare a fare un video, come avete visto dal titolo, che riguarda principalmente la salute del batterista. Qualche video fa vi ho parlato della salute sempre del batterista riguardante la questione postura, posizionamento sullo strumento, come ci si siede, eccetera eccetera. Oggi voglio continuare un po' questo aspetto perché secondo me è super importante per un batterista quasi più che il suonare. Perché mantenere diciamo intatta la propria salute, siedersi nella maniera corretta, eccetera, è fondamentale. Se sbagliamo queste cose qua rischiamo veramente grosso e soprattutto rischiamo tante volte di non poter più suonare per errori che abbiamo fatto mentre studiavamo, mentre suonavamo, eccetera. Non voglio essere catastrofico oggi, ma semplicemente voglio dirvi che mi è arrivato un nuovo pacco da strumentimusicali.net che ringrazio perché dentro questo pacco ci sono tante cose che fanno veramente bene. Allora, andiamo a vedere che cosa c'è all'interno di questo pacco, a parte i solite cose che queste, ecco, queste alla salute e alle orecchie, non fanno molto bene, ma non fa niente. Cominciamo perché ci saranno tante cose da farvi vedere oggi, questa non è la prima. Allora, per prima cosa vi voglio far vedere i soliti tappi, diciamo, per batterista o comunque i soliti tappi per musicista in generale, questi ragazzi sono veramente super super utili. Io di questi qua ne ho sempre uno nello zaino perché sono piccoli, tengono poco posto nello zaino, ci stanno e vi assicuro che salvano la vita. Costano poco, le servono tanto. Quindi all'interno, a parte, cos'è questo? Ah, che figata! Che figata questi! Guardate qua, se io giro qua, come faccio a mettere a fuoco questa cosa? Se io giro qua, è un portatappi, cioè, perché il problema dei tappi è sempre che li perdiamo. Quindi, questi sono una bomba, più che altro prendete i vostri tappi, li appallotolate, questi funzionano proprio così. Quando li mettete sentirete dentro, perché incominceranno ad espandersi i tappi e quindi voi non sentirete praticamente più nulla e vi verrà da parlare forte in questo modo perché voi non sentite nulla, ma in realtà gli altri ci sentono ancora bene, quindi mi raccomando, quando mettete questi tappi ricordatevi di parlare a un volume normale. Trovate tutto in descrizione, come al solito. Allora, prima cosa, ci sono questi qua, che sono gli Air Pad, che devono essere dei tappi super 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 fighe, a parte che hanno la propria scatolina, ma perché dicono che questi tappi non vanno a modificare le frequenze. Quindi voi sentirete meno, in pratica, ma non sentirete tutte quelle basse, come al solito. Dopo li proviamo sul set, perché voglio provarli sul set. Come voglio provare sul set anche queste cuffie qua, le Alpine, cuffie normali, che sono cuffie abbastanza economiche, però di quelle antirumori, diciamo. Quindi queste qui, semplicemente le mettete e non sentite più nulla. Sono anche piccoline, quindi non danno fastidio. Cioè, l'orecchio, diciamo, sta bene dentro, quindi non sono di quelle che dopo mezz'ora che studio che suoni hai un male pazzesco alla testa o alle orecchie, ma sono ottime. E poi, ultime, ma non per importanza, anzi, forse un po' anche per importanza, le Vic Fert. Voglio provare la differenza tra queste Vic Fert qua e queste Alpine qua. Non vi dico niente, anzi, vi dovrò dire una cosa sulle Vic, ma poi ve la dico. Quindi, mando la sigla e ci spostiamo sul set. Ciao! Siamo quindi giunti al momento di provare veramente questi prodotti. Allora, al di là di queste Alpine, che le ho provate prima e sono molto fighe per il prezzo e per il packaging che hanno, sono curioso di provare le due cuffie. Proviamo le due cuffie per prima cosa, cioè le Alpine e le Vic Fert. Ovviamente Fert c'è sempre, ma le Vic mi piace di più, è più bello. Allora, proviamo le Alpine, ammazza! Queste sì che chiudono, mamma mia! Chiudono di brutto, questo. Proviamo a sentire sulla batteria. Proviamo a sentire sulla batteria con cordiera. Adesso, senza dirvi nulla a riguardo, provo subito le Vic e poi le mettiamo a confronto. Allora, due cose. Per prima cosa direi che le Vic assorbono, cioè non assorbono, attutiscono un filino di più rispetto a queste Alpine qua. Non c'è una differenza pazzesca, ma vanno un po' più giù come i decibel. La cosa è che con queste cuffie qua, probabilmente vi troverete a suonare più forte. Perché? Per due motivi. Uno, perché quando vi mettete queste, vengono ottenute più le basse delle frequenze acute, che poi le frequenze acute sono veramente quelle che dà un fastidio. E quindi sentirete la batteria super figa e vi verrà da picchiare ancora di più. Poi quando togliete le cuffie, la vostra batteria sembrerà non suonare. Questa è un'esperienza da provare perché quando vi mettete queste cuffie e poi suonate, avete veramente quella batteria che sembra equalizzata, sembra già mixata per un disco e quindi vi prendete benissimo e suonerete ancora più forte. L'altra cosa che vi voglio dire è che delle Vic esistono due tipologie di queste cuffie, che vi metterò ovviamente in descrizione, una è questa qua, che è quella normalissima, quindi cuffia che attutisce, l'altra, che io vi metterò in descrizione il modello nuovo, perché hanno fatto un modello ancora più figo di quello che ho io, ma ve lo faccio vedere, è questa qua, cioè stessa cuffia, praticamente identica, poi come vi ho detto adesso hanno fatto anche il modello nuovo, ma col cavo, quindi qua ci arriva la musica, voi vi mettete queste che attutiscono di brutto, poi potete attaccarci il cellulare, il tablet, il mixer, il computer, quello che volete, per ascoltare la musica, quindi ve le mettete e potete suonare proprio le canzoni che volete, ma senza dovervi mettere la musica a 100.000 decibel, perché se no con la batteria la coprite. Qua vi attutisce la batteria e potete tenere la musica abbastanza bassa, perché tanto anche la batteria la sentirete abbastanza bassa, quindi anche queste sono veramente una figata, costichiano un po' di più, ma ne vale la pena ve le assicuro, io queste le uso da anni. Ma il problema di queste cuffie e dei tappi in realtà è che non vanno sempre bene, magari vogliamo studiare alcune cose sulla dinamica o alcune cose che non richiedono troppa troppa potenza, ma vogliamo lo stesso proteggerci giustamente, aggiungerei, dal suono della batteria, allora teoricamente andremo a vedere se fanno veramente questo lavoro, ci sono queste Earsonics qua, che vi ho fatto vedere prima, mo me le metto e anzi sai che c'è? Mi metto anche il cordino per non perderle. Uh, bello. Allora la sensazione è molto bella, cioè poi tra l'altro sono, vabbè a parte il cordino, che si può anche non mettere che fa un po', vabbè, sono trasparenti, quindi si vedono veramente veramente veramente, no tolgo il cordino, non mi piace veramente niente il cordino. Praticamente vedete, non si vedono nell'orecchio, proviamo un po'. Momento, momento, momento. Momento, 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 momento. Lois, questo non è il mio bicchiere di Batman. Non so cosa dire, raga, cioè, sono completamente diverse da quelle di prima, cioè queste qua sono perfette, sono perfette. Abbassano, attenuano, in realtà, un filo meno, ma il suono che sentiamo nella batteria è perfettamente quello, cioè, sono scioccanti queste cose, perché vanno ad abbassare tutte le frequenze. Quindi io posso tranquillamente tenermi queste qua e fare qualsiasi, qualsiasi, qualsiasi cosa alla batteria. Sì andare a suonare una cosa dinamica, sempre con la cordiera. Cioè, è mondiale questa cosa, ma sia in realtà suonare tranquillamente anche un concerto, cioè, tanto non si vedono neanche, quindi io posso tranquillamente suonare un concerto senza avere i suoni fortissimi, senza dover avere tutte quelle rotture di scatole che si hanno sempre quando si fa un concerto, soprattutto le rotture di scatole che abbiamo o a fine concerto o dopo tanti concerti fatti che allora incominciamo veramente a sentire male alle orecchie. Quindi, raga, la cosa che vi dico assolutamente è proteggete le vostre orecchie, perché è veramente, veramente, veramente fondamentale. Non ve ne accorgerete, magari, all'inizio, quando suonate, dopo un anno, dopo due, ma quando incominciate a suonare tanto, fare tanti concerti, magari, fare, studiare tanto anche a casa, eccetera, soprattutto se si fanno generi potenti, allora ve ne accorgerete di brutto e però sarà troppo tardi. Mi spiace essere catastrofico anche in questo caso, ma sarà troppo tardi, perché tornare indietro non si può. Quindi, mi raccomando, ragazzi, proteggete le vostre orecchie, pensate alla vostra salute, ve lo dico proprio così, mi raccomando. Quindi, ragazzi, arrivati a fine video, ho i miei quattro prodotti qua in mano. Allora, piccola ricapitolazione, se avete budget minimo e volete proteggere le vostre orecchie, sapendo che però il suono che sentirete va buo, cioè è un po' distorto, andate sulle Alpine. Alpine, non mi ricordo come si chiamano, Travel Box, ok, Travel Box, Z, Travel Box. Se volete attutire ancora di più, andate sulle Alpine cuffiotte proprio così. Se volete attutire ulteriormente, andate sulle Vick, ragazzi, perché vi ricordo che queste qua avete la possibilità di averle sia normali, così che ve le mettete, chiudono e basta, suonate quello che volete, oppure ci sono anche quelle col cavo. Quindi, siete attutiti e in più potete buttarci dentro la musica. Quelle lì, come avete visto, io le ho ancora e le uso perché sono una figata pazzesca. Non fanno male alle orecchie, non avete problemi di volumi, eccetera, figata. E se invece volete qualcosa di veramente sfizioso a un prezzo, alla fine, basso, prendete le Air Sonic. Queste qua, ragazzi, sono una bomba. Cioè, non pensavo che dei tappi potessero funzionare in questo modo. Veramente una figata pazzesca. Quindi, bomba. Questi le mettete dentro e vi attutiscono il suono, ma senza perdere le frequenze. Perderete qualcosina, ma praticamente quello che sentirete sarà quello che state suonando. Quindi, con questo, grazie mille a strumentimusicali.net come al solito, perché questo è un video che volevo fare da tempo, ma non avevo proprio i mezzi per riuscire a farvi vedere più possibilità. Potevo farvi vedere una, che era quella che usavo io, ma volevo poter provare e comparare, dato che uso sempre queste parole belle per me, ma vabbè, questi prodotti. Quindi, figata, ho avuto la possibilità di comparare quattro prodotti diversi, in realtà cinque, se mettiamo le altre possibilità delle WIC. Non vi rompo più. Vi ricordo di iscrivervi al canale se vi va, di mettere un mi piace, di attivare la campanella, di andare sui miei sociali Instagram e Facebook, di leggere l'articolo su Sistema Cast Tube, di andare sotto in descrizione, perché ci sono tutti i link ai prodotti e basta. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! 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 Ciao!